Bene carissimi amici, ben ritrovati ancora una volta qui sul mio canale. Siamo qui nell'appuntamento per quanto riguarda l'analisi e estrazione di giovedì 19 maggio 2022. Una buona giornata a tutti voi. E notiamo ancora la sortita del 90 sulla ruota di Bari. È la sesta volta che questo 90 esce sulla ruota di Bari. Con il mio speciale 90 ce li siamo portati a casa tutti e sei. Quindi abbiamo vinto il 90 a Bari tutte e sei le volte che è sortito. Perché ho fatto continuare lo speciale 90 a tutti coloro che avevano la previsione in mano. E ieri abbiamo vinto dallo speciale 90 Superstar 90-21 sulla ruota di Bari. Vi avevo detto nelle scorse analisi attenzione perché il 90 si andrà a presentare dove è già sortito. E le mie parole state vedendo che trovano riscontro. Quindi un 90 che è ritornato sulla ruota di Bari. Vi avevo detto attenzione perché le ruote superiori sono importanti. Cosa avevamo visto nella scorsa estrazione? Intanto Bari portava un doppio zerato, 30 e 50. E già questo era un grande segnale del 90. C'era l'81 in quinta di figura 9. E poi, nell'estrazione ancora precedente, avevamo questa formazione di cadenza 4 molto interessante. 64-84 con il 44 ripetuto. Ma ancora prima, guardate, avevamo il doppio 60 isotopo Baricale ripetuto anche a Firenze. E vi ho detto che questa formazione portava il 90. Quindi, vedete come i segnali ce n'erano ed erano anche abbastanza evidenti. Adesso attenzione perché il 90 potrebbe ripetersi addirittura un'altra volta a Bari o sortire a Cagliari. E abbiamo anche Firenze. Sapete benissimo che abbiamo due speciali 90 in gioco. Bari-Cagliari e Cagliari-Firenze. Chi non ha preso le previsioni, mi contatti via WhatsApp per avere i 4 ambisecchi in modalità vincita venuta. Perché notate che lo speciale 90 va a colpire in una maniera incredibile. E' uno studio sul 90 veramente pazzesco. E allora? Notate la presenza del 53-59 in terza posizione? Questa formazione porterà il 56. Quindi mi raccomando, 56 Bari, anche quarta e quinta posizione. Lo continuiamo, come anche continuiamo il 49 Bari, quarta e quinta posizione. Notiamo la presenza della cadenza 9 sulla ruota di Bari in terza posizione. Ma questo zerato in diagonale, 90 e 10 Bari-Cagliari, potrebbe e porterà ancora il 90. Quindi, attenzione, cosa ancora possiamo dire? Notiamo sulla ruota di Napoli il 54 di figura 9, la cadenza 9 a Napoli, il 19. Notiamo, vediamo, non vorrei che mi sfugge qualcosa. Allora, abbiamo Firenze, sicuramente molto forte anche per il 90. Cagliari molto forte anche per il 90. E notiamo su Milano la cadenza 6, 86 e 26. La cadenza 6 è sempre molto forte per quanto riguarda il 90. Isotopo, 56 a Palermo, 56, 26, 86, forma questa triade. E il 6 a Palermo in terza posizione. Questa cadenza è molto forte per il 90. Quindi un 90 che si potrà ripetere sia a Milano, sia a Napoli, sia a Palermo. Vi ho detto che il 90 avrà una forte frequenza. Avrà una forte frequenza estrattiva. E state vedendo che praticamente sta sortendo praticamente ad ogni estrazione. Quindi è raro che il 90 salti un'estrazione. Quando salta poi va a sortire su doppia ruota. Quindi attenzione assoluta perché lo vedremo ancora in grande frequenza su diverse ruote. Anche Venezia porta l'89 che annuncia il 90. Nazionale porta l'85 e la cadenza 2. Quindi anche sul Nazionale ci potrebbe essere una ripetizione. Quindi tutte le mie previsioni rimangono confermate. Se avete benissimo i speciali 90 che abbiamo in mano. Se avete benissimo le previsioni mensili che abbiamo in mano. Rimane tutto confermato. E state attenti quando presento lo speciale 90. Perché è qualcosa di davvero pazzesco. Questo 90 a Bari ce lo siamo vinti 6 volte consecutive. Ce lo siamo vinti 6 volte. Non abbiamo saltato neanche una. Perché speciali 90 a Bari Cagliari me lo dava confermatissimo. Quindi attenzione cari amici. Notiamo Roma Torino questo numeretto 3-4 isotopo. Come la cadenza 7 Roma 17-47. Un 90 a Roma che addirittura si potrebbe ripetere. Quindi coppie Firenze e Roma. Molto interessante. Il 60 ritorna a Firenze. Dopo che vi ho fatto vedere questa formazione. Nell'estrazione di giovedì 12. Questo triplo 60. Prima è andato in terza Firenze. Adesso va in quinta Firenze. Quindi molta attenzione. Perché ne vedremo delle belle. Guardate che formazione a triangolo. Proprio tra Bari Cagliari e Firenze. C'è proprio un triangolo. 90-10 guardate. E 60. Quindi la base 90-60 è 10. La punta proprio di questo triangolo. Questa è un'altra bellissima formazione. Che ci porterà un grande 90. Quindi attenzione. Perché potrebbe arrivare Cagliari-Firenze. Ma non ci meravigliamo. Se si andrà a ripetere ancora una volta Bari. Perché abbiamo comunque il gemello 44. La cadenza 9. La cadenza 2. E insomma. Ne vedremo ancora delle belle. Vi avevo annunciato che il 90 si ripetiva. Dove era già sortito. Sta accadendo proprio questo. Quindi seguite con attenzione i miei consigli di gioco. Perché andiamo costantemente a vincere. Genova porta al 48. Spia del 90. 29. Guardate sempre la cadenza 9. Tra Genova e Venezia. Quindi questa è anche molto interessante. In prima posizione. 89. 29. Vediamo un po'. Questa l'abbiamo detta di Torino. 59. 69. Questa cadenza 9. Anche molto bella. doppia cadenza tra Roma e Torino. 17. 47. 69. 59. Vediamo un po'. Palermo porta la figura 9. 81. La stessa figura 9 che abbiamo visto a Bari in quinta posizione. Guardate. Che poi ha dato il 90. anche Palermo 81. Guardate. C'è l'81 figura 9. Il 6 cadenza 6. Doppia cadenza 3. Quindi molta attenzione. Intanto andiamo avanti con ciò che abbiamo in mano. Chi mi segue sa le previsioni che ci sono. Io confermo sempre quando c'è da continuare. Quindi si va avanti normalmente. e vedrete che andremo ad ottenere sempre grandi vincite. Andando avanti con costanza. Con fiducia. Per quanto riguarda le previsioni. Chi sta seguendo so che molti seguite le mie spie. Seguite i miei metodi mensili. Quindi sono contento di questo. Sono contento di questa vincita del 90-21. Ottenuto a Bari. Dallo speciale 90 Superstar. Grandissima condizione. La Superstar è una. Proprio lo dice proprio il nome stesso. È proprio una condizione super. che è sempre all'interno del procedimento speciale 90. Quindi veramente ha dato un grandissimo esito. E vediamo ancora cosa possiamo dire. Napoli-Palermo. Guardate cadenza 3 in verticale. 33 e 23 di distanza 10. E comunque le ruote superiori portano belle formazioni. Come anche la coppia Milano-Napoli. È molto interessante. Quindi secondo me Cagliari-Firenze-Milano-Napoli. Vedremo questo grande 90. Ebbene cari amici. Questo è tutto. Appuntamento alla prossima analisi e estrazione. Per adesso saluto a tutti. Mister Spanconotto.